L'autista di Fermi, Baudino, mi ha detto che ho superato il record delle donne italiane. Dopo soltanto due giorni dal parto sono tornata a lavoro e il lavoro era allo Salamos per la costruzione della bomba atomica. Sono Leona Buzzi, ho fatto le stesse cose che ha fatto Enrico Fermi, ma con 19 anni di meno e incinta. La donna della bomba atomica è il nuovo libro, esce in tutte le librerie per Mondadori il 20 febbraio 2024 e sarà in pre-order nel web dal 6 febbraio.